S4ANA Public Cloud S4ANA Public Cloud, una soluzione proposta da SAP come elemento di innovazione per le aziende che vogliono intraprendere un percorso di digitalizzazione verso l'adozione di un nuovo sistema gestionale. La soluzione è assolutamente innovativa, presenta elementi di standardizzazione che consentono all'azienda di beneficiare del best practice che SAP ci mette a disposizione, che sono tipicamente validi per i settori più comuni nel mercato italiano, ovvero il mondo del manufacturing, il mondo del consumer product, il mondo dei service, e questo tipo di soluzione viene assolutamente accompagnata dalla capacità del partner, in questo caso DERGA, di accompagnare il cliente nel percorso di trasformazione con l'adozione dello standard da una parte, ma con la possibilità di andare a ricercare elementi di personalizzazione che possano soddisfare le specifiche esigenze dell'azienda. È evidente che adottare una soluzione di questo tipo significa essere convinti che il percorso verso la standardizzazione sia un percorso vincente per l'azienda perché consente ad essa di essere costantemente allineato con il meglio della tecnologia messa a disposizione. SAP continuamente innova la soluzione con una frequenza di due volte all'anno almeno e la possibilità di accompagnare questo tipo di soluzione da elementi tecnologici che consentono di portare la personalizzazione necessaria, l'automazione dei processi, sono comunque elementi che rendono questa soluzione unica e distintiva nel mercato delle applicazioni ERP. È evidente il vantaggio che deriva da questa soluzione, i vantaggi sono riconducibili a elementi di implementazione che risulta semplificata e accelerata in termini di tempi, in termini di gestione nel tempo perché consente di avere il SAP che ci supporta nel processo di innovazione della soluzione abbattendo i costi di ownership dell'infrastruttura tecnologica e anche dal punto di vista della velocità di introduzione dei cambiamenti ci troviamo di fronte a qualcosa che è sempre aggiornato, sempre in linea con le migliori tecnologie con la possibilità, come ho già indicato, di poter personalizzare la soluzione per quelle che sono le esigenze specifiche. Questa cosa viene fatta, peraltro, utilizzando una tecnologia parallela che non va a interagire con il core del sistema che viene, come ho detto, mantenuto e rinnovato costantemente dalla SAP. Per questo noi, DERGA, abbiamo individuato un percorso specifico di accompagnamento delle aziende e ci proponiamo come interlocutori efficaci per questo tipo di interlocutore. DERGA